Allora, la nostra associazione si occupa di portare qua sul territorio la musica antica. Per musica antica intendiamo tutta quella musica che viene composta sul basso continuo, che è un particolare procedimento musicale che inizia a terminare nel 1780 circa, ecco, io dico una data ma chiaramente non è così definitiva. Allora, abbiamo pensato di portare qua sul territorio due settimane di musica antica utilizzando sette bellissimi posti e cercando quindi di valorizzarli dislocati su tutto il repertorio del Garda Trentino. Allora, l'idea è stata quella di prendere appunto questi posti fantastici e chiedere ad alcune tra le principali aziende, tra le principali scuole che si occupano di formazione della musica antica e di sviluppare dei concerti che potessero essere messi in relazione con questi bellissimi posti che abbiamo sul nostro territorio. Ed ecco che abbiamo fatto intervenire la Scuola Cantorum di Basilea, l'Accademia per il Teatro e la Musica Lituana, dal Conservatorio di Firenze, la Scuola di Trossingen, la Hochschule di Trossingen, insomma tutte queste realtà molto importanti, hanno sviluppato questi programmi, a volte un po' folli, devo essere sincero, però molto simpatici. Allora, il primo ottobre partiamo qua alla chiesa di San Rocco con uno splendido concerto di musica medievale. La chiesa è del 1400, quindi faremo musica del 1400 con la Scuola Cantorum di Basilea, l'eccellenza, faremo suonare gli stessi strumenti che potremo vedere all'interno della chiesa dipinti. Il giorno dopo, una follia, la notte coraggiosa, The Brave Night of Ancient Music, la notte coraggiosa della musica antica, andremo fino all'eremo di San Giacomo di notte e lì ascolteremo un concerto incredibile, una fisarmonica mesotonica, cioè una fisarmonica, uno strumento moderno che è intonato come gli organi del 600 e ci farà sentire della musica seicentesca come l'età più o meno della chiesa. Abbiamo visto che la chiesa più o meno è stata costruita nel 1660, negli anni 60 e del 600. Verrà uno dei più grandi fisarmonicisti al mondo che è Hans Meyer, proprio dalla Germania. Il giorno dopo saremo nella chiesa di San Zenone a Colonia e verrà l'Accademia Lituana di Musica e Teatro presentando un concerto dedicato alla grazia divina. Si parlerà in particolare del giudizio universale, del rapporto tra l'uomo e Dio. Poi si passa alla settimana successiva, si inizia il giovedì successivo, il giovedì 8, saremo a Fortegarda, a Fortegarda allestiremo un organo a canne all'interno del Fortegarda, quindi ce lo montiamo, è piccolino ma lo montiamo. All'interno del Fortegarda parleremo di quella che è la figura femminile e il rapporto tra la figura femminile e la guerra. eseguiremo in prima, diciamo moderna, un manoscritto di un compositore trentino, o meglio ladino, Roncher, del 1750 più o meno. È la prima volta che viene eseguita, noi abbiamo fatto la ritrascrizione ed è un piccolo evento nell'evento, ecco diciamo così. Il 9 ottobre ci ritroveremo al ristorante La Lega con un concetto dedicato alla figura di Livia d'Arco che era proprio la proprietaria del palazzo e faceva parte di un gruppo cinquecentesco che era un po' come le nostre Spice Girls, cioè il Duca d'Este aveva queste ragazze che faceva esibire solo in presenza di ambasciatori molto importanti, regnanti eccetera e Livia d'Arco, una nostra concittadina, faceva parte di questo gruppo. Di conseguenza abbiamo ricostruito il gruppo di sole donne al ristorante La Lega e al termine della serata verrà anche servita una cena di ispirazione cinquecentesca. Il 10 ottobre saremo invece a Sant'Andrea, a Torbole, con uno spettacolo che si chiama Galea Spermontes che ricorda appunto queste imbarcazioni veneziane che sono passate per Torbole. Il concerto è di musica veneziana. L'11 ottobre è l'ultima nostra data e al Museo delle Palafitte del Lago di Ledro canteremo la valle parlando di acque, boschi e selve. Tutti i concerti iniziano alle 8.45 eccetto l'ultimo in Val di Ledro che inizia alle 3 del pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.